Correre verso un futuro più solidale e fiorente, abbracciare quanti soffrono, stretti nell'indigenza e mettersi così in moto sulla strada della solidarietà. A Trani buon cuore in corsa, tanta la gente riversa per le vie cittadine, raccolta alimentare a sostegno delle famiglie bisognose del territorio, promossa dall'Associazione Orizzonti. Sport e solidarietà insieme per una causa comune. In occasione della quinta edizione di Trani in Corsa, la tradizionale e blasonata manifestazione nazionale di corsa su strada, nutrito il gruppo di volontari di Orizzonti che ha così promosso la raccolta alimentare. Atleti senior e junior, cittadini tutti attivamente partecipi, tanti passi fatti nel segno della carità per rendere meno amaro il presente di tante famiglie e bambini che al momento versano in una difficoltà economica capace di coinvolgere negativamente anche l'alimentazione quotidiana. Correre incontro agli altri e sensibilizzare così l'opinione pubblica. Oggi è una data importante perché lo sport sposa la solidarietà. La manifestazione buon cuore in corsa è stata progettata nel tentativo di sensibilizzare l'opinione pubblica ma principalmente i giovani alla cultura della donazione. Una busta alimentare per partecipare alla gara podistica, questo è un piccolo dono ma dietro un grande gesto dal grande significato solidale. In un momento storico in cui la solidarietà deve affacciarsi prepotentemente nel tentativo di arare un tessuto sociale che sta diventando sempre più povero in ragione della crisi economica. Si sta impoverendo la famiglia e l'associazione Orizzonti ha proprio il target di aiutare la famiglia povera, i nuovi poveri. Grazie a tutti.